Allora, entriamo in questo appartamento, piano alto in palazzo d'epoca, siamo in via Nizza, l'ingresso è in questo soggiorno, molto ampio, arieggiato, come possiamo vedere questo è l'ingresso, abbiamo pavimento in graniglia, soffitti alti, seguiamo, questa è la panoramica dell'ingresso, possiamo notare, lì c'è un ripostiglio che potrebbe essere tolto e ampliare il soggiorno, ancora di più, abbiamo la prima camera, la camera che dà sulla balconata, la balconata abbastanza lunga, come possiamo notare, con la vista della città, una bellissima vista, ecco qua, ando fuori, abbiamo, come ho detto a destra, il soggiorno, direi che non c'è spreco di metri, abbiamo il bagno, con la doccia, ecco qua, con la finestra, abbiamo l'altra camera, che dà sulla balconata anche questa, possiamo notare, una balconata, con la vista della città, vista strepitosa, pavimenti particolari in graniglia, abbiamo questa cucina, uscendo, ricapitolando, abbiamo a destra, la camera che dà sulla balconata, con splendida vista, sinistra il bagno, dritti in fronte a noi, l'ampio soggiorno, a destra la camera, con questa balconata, che veramente ha, una vista sulla città, invidiabile, e ritornando indietro, tornando all'inizio, eccoci qua, e qua finisce il nostro ciclo, e qua finisce il nostro ciclo, attaccazione, 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 Grazie.